Prodotti utili, essenziali nella vita quotidiana moderna. Si tratta di prodotti fabbricati presso impianti di produzione automatizzati. La chiave di questo tipo di automazione è l'impiego di componentistica pneumatica. La pneumatica risulta essere una tecnologia importante per l'automazione nei principali campi di produzione, tra cui il settore automobilistico ed elettronico, come anche nei settori più all'avanguardia, come l'IT, Life & Science e medicali. La pneumatica comprende i gruppi di trattamento dell'aria, le valvole di controllo direzionale e gli attuatori. SMC detiene la quota di mercato più alta del mondo nel settore dell'automazione pneumatica. Offriamo oltre 11.000 modelli base e la nostra gamma completa di prodotti raggiunge le 620.000 varianti. Perché i clienti di tutto il mondo scelgono i prodotti SMC? Grazie all'assistenza, garantita dai nostri tre pilastri. SMC offre ai propri clienti prodotti di alta qualità e tempi di consegna rapidi a livello mondiale. Grazie al nostro sistema di gestione integrato, assicuriamo una fornitura costante dei prodotti in tutto il mondo. Realizziamo tutto internamente. Fusione, forgiatura, lavorazione a macchina, produzione di componenti elettronici, assemblaggio, e ispezione. Tutti i processi di produzione sono eseguiti automaticamente. Nelle nostre linee di produzione utilizziamo apparecchiature di ultima generazione. Offriamo una vasta gamma di prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapidi tempi di consegna soddisfano le necessità dei nostri clienti, dai prodotti standard a quelli personalizzati. SMC conta 5 unità produttive in Giappone. Gli stabilimenti di Stabilimenti di produzione su larga scala, per la produzione a livello globale, sono collocati in Cina e Singapore. Abbiamo inoltre unità di produzione in 25 paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Germania e Russia, in grado di fornire i nostri prodotti a mercati regionali come Europa e Nord America. SMC China, ad esempio, è uno dei più importanti siti di produzione dislocato oltreoceano. Grazie a quattro stabilimenti segue la produzione integrata di cilindri pneumatici, elettrovalvole, gruppi FRL, essiccatori a ciclo frigorifero e raccordi, riformendo 76 paesi, Giappone compreso. Abbiamo inoltre centri di distribuzione dislocati in tutto il mondo, in modo da essere sempre vicini ai nostri clienti. Gli ordini ricevuti vengono immediatamente processati e i prodotti vengono inviati dai nostri magazzini. Il nostro sistema di spedizione è implementato grazie alla collaborazione con i nostri distributori, per poter così offrire una copertura capillare in diverse aree. Questo sistema ci permette di consegnare i prodotti ai nostri clienti molto rapidamente. SMC vanta una rete di assistenza presente in tutto il mondo. Oltre 6.000 addetti alle vendite in tutto il mondo mantengono uno stretto rapporto con i nostri clienti, al fine di favorire e incentivare lo sviluppo di nuovi prodotti e di ottenere un continuo miglioramento del servizio. In Giappone contiamo 55 uffici commerciali, 94 distributori con 572 punti vendita. Nel 1967 abbiamo iniziato a esportare i nostri prodotti nel mercato australiano. Abbiamo succursali e distributori locali nei principali paesi del mondo. Ad oggi possiamo contare su 400 siti in 78 paesi. Grazie all'espansione e all'arricchimento della nostra rete oltreoceano, abbiamo costruito la nostra solida reputazione e conquistato la fiducia come marchio internazionale. Tutto ciò ci ha portato a raggiungere la Global 32, il 32% di quota di mercato. Il nostro mercato di riferimento è mondiale e continueremo ad offrire servizi personalizzati per garantire prodotti SMC di alta qualità e rapida consegna in tutto il mondo. La produzione SMC è supportata dalla crescita delle nostre competenze nell'ambito dello sviluppo tecnico. Il nostro team di ingegneri è formato da specialisti provenienti da diversi settori. Questo permette loro di sviluppare prodotti adatti ad ogni tipo di necessità. Ci adoperiamo per migliorare qualità, precisione e durabilità dei nostri prodotti e investiamo molto in ricerca e sviluppo a tutto campo per produrre un livello avanzato di funzionalità, multifunzionalità e compattezza, impiegando nuovi materiali e creando prodotti che anticipano i bisogni dei nostri clienti. Produciamo componentistica pneumatica, ma anche prodotti che offrono una vasta copertura in campi affini. Contiamo centri di ricerca e sviluppo in Giappone, Stati Uniti, Europa e Cina. Vantiamo una solida rete globale di engineering che fa capo al Giappone. I nostri centri di ricerca e sviluppo condividono le informazioni e lavorano a stretto contatto per offrire lo stesso livello di assistenza tecnica in tutto il mondo. SMC ha costruito una solida base aziendale per poter offrire prodotti affidabili ai nostri clienti. I prodotti SMC adempiono ad una serie di norme internazionali atte a garantirne l'uso in tutto il mondo. Abbiamo ottenuto le certificazioni internazionali ISO 9001 e ISO 14001 e abbiamo costruito solidi sistemi di gestione ambientale e di garanzia della qualità. Nel 2007 abbiamo ricevuto un riconoscimento da parte del Ministero dell'Economia, Commercio e Industria del Giappone. Nel 2011 il marchio SMC è stato certificato come Famous Trademark in Cina. SMC è la prima società del mondo a ricevere il titolo di Famous Trademark in Cina nel campo delle apparecchiature pneumatiche. I media e le agenzie di rating di tutto il mondo riconoscono il valore di SMC. Lavoriamo costantemente per migliorare la nostra affidabilità come società. Il nostro obiettivo è scoprire nuovi campi e settori. Abbiamo sviluppato nuovi prodotti per i settori ambientale, per l'agricoltura, l'alimentare e molti altri ancora. Stiamo migliorando i nostri componenti e sviluppando costantemente nuovi prodotti, altamente avanzati, più compatti e a risparmio energetico. Al fine di mantenere e al contempo migliorare il nostro rapido servizio di consegna dei prodotti, continueremo a migliorare i punti di forza della nostra rete di fornitura. Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti, in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti, in tutto il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti,